La protezione di Dio è sicura, i nemici circondavano David e volevano attaccarlo, ma lui non era indifeso, i nemici circondavano David e volevano attaccarlo, ma lui non era indifeso. Addio a difenderlo, perciò ha gridato addio e ha detto, ma per quanto riguarda me, io confido in te, oh Signore, dico, tu sei il mio Dio. I miei tempi sono nella tua mano, liberami dalla mano dei miei nemici, e da quelli che mi perseguitano. Fai risplendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. Non lasciare che mi vergogni, oh Signore, perché ti ho chiamato, che gli empi si vergognino, che tacciano nella tomba, Salmo 31,14-17. Lezione, noi cristiani ci riserviamo il diritto di chiedere a Dio benedizioni e protezioni. Poiché siamo figli di Dio, ci è permesso di chiedergli quello che vogliamo. Nel frattempo le nostre richieste non dovrebbero basarsi solo sulle disposizioni, ma dovremmo anche chiedere a Dio delle protezioni. Inoltre, i credenti devono esercitare la fede una volta che hanno pregato. Dio che ama i Suoi figli non esiterà a benedire e a sottomettere i nostri nemici sotto i Suoi piedi. Preghiera, caro Dio, mi sono resa conto che sono la persona più fortunata della Terra perché ho Te come Dio, perciò confermo la mia fiducia in Te. Ordino a tutte le situazioni difficili che circondano la mia vita di inchinarmi nel nome di Gesù Cristo. Ancora una volta, sottolineo che tutte le situazioni spiacevoli che mi tormentano, mi fanno vacillare nel nome di Gesù Cristo. Poiché sono un figlio di Dio, ho una potente autorità per comandare alle situazioni di ascoltarmi, pertanto, rimprovero Satana e ordino che tutto il suo strumento afflitto venga sprecato nel nome di Gesù Cristo. Amen.